sono uno scoppiato sono un giovane barbone solitario lettore di libri rubati ho provato a inserirmi molte volte nella società ma non ce l'ho fatta e ora sono uno scoppiato per sentirmi meno solo vorrei approfittare di questa intervista per chiedere ai miei concittadini che vanno in vacanza qualche cartolina perché le mie giornate si tirano dietro la voglia di compagnia come una rete a strascico prego perciò chi vuole aiutarmi di scrivermi il mio indirizzo è dormitorio pubblico via degli abruzzesi 23 00 125 roma a non ho il telefonino grazie commento quando queste creature sentono il bisogno di dialogare con gli altri è segno che iniziano a risalire la china della separatività dell'io tu tu io